Il challenge italiano! Sì! Canestro! Pausa! Scorta! Scorta! Attento! Usiamo Willy per sapere se si può toccare! Sì! Quando è freddo diventa blu, quando è caldo diventa rosso! La sedia è molto calda, quindi no no, all'ombra andiamo! La sedia è molto calda, quindi noi all'ombra andiamo! Sì! Il sole riscalda la sedia, qui c'è l'ombra, quindi l'altalena è fresca! La pizza è pronta? Sì! La pizza è molto calda, quindi aspettiamo, non la mangiamo! La pizza è molto calda, quindi un po' dobbiamo aspettar! Ora sì! La pizza ha bisogno di un momento per affreddarsi! Mmm! Niam! Oh! Tesoro, devi farti un bagno! Il bagno è molto caldo, quindi aspettiamo e non entriamo! Il bagno è molto caldo, quindi un po' dobbiamo aspettar! E' tiepida ora! Sì! Willy dice che ora possiamo entrare! Sì! Il pavimento è freddo, sì! Andiamo via e riscaldiamoci! Il pavimento è freddo, sì! Quindi noi ci ricordiamo! Stai bene ora? Hai calduccio? Sì, mamma! Anche Willy! Mh, che profumo di biscotti! Il forno è molto caldo, quindi no no, noi aspettiamo! I biscotti scottano sì, quindi noi... Parpecchiamo! Sì! I biscotti sono pronti? Sì! Sì! Ma aspettate ragazzi! Perché sono... Caldi! Esatto! Col gelato si raffreddano! Grazie papà! Willy, sei grande!